Il malessere serpeggiava da giorni, segnali di insofferenza verso il provvedimento adottato per 29 tunisini che dovevano lasciare il centro di Contradamilo alla periferia di Trapani per far rientro nel loro paese. Ieri la situazione è precipitata. Per impedire il rimpatrio dei loro connazionali, infatti, un gruppo di nordafricani ha dato vita ad una rivolta che ha messo a soccuadro l'immobile. L'allarme è scattato alle 14.20. I responsabili dei disordini hanno accatastato materassi e scatole di cartone, appiccando il fuoco in più punti, momenti di tensione. Le fiamme si sono subito propagate, il fumo ha invaso l'edificio, mettendo in pericolo l'incolumità degli ospiti. La sommossa è stata poi domata dalla polizia. Non ci sono stati feriti, ma il centro per il rimpatrio è stato gravemente danneggiato. Ora, indagini per individuare i protagonisti della rivolta che rischiano l'incriminazione per i reati di incendio doloso e danneggiamento. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento gli incendi. In serata, altri tentativi di rivolta sedati questa volta sul nascere. La situazione però incontrata a Milo, dove fino a ieri erano intrattenuti 145 ospiti di nazionalità tunisina, marocchina e egiziana, rimane incandescente. Questa mattina avrebbero preso il via i trasferimenti dei migranti verso altre strutture. I danni provocati dai roghi, infatti con la dichiarata inagibilità di alcuni padiglioni, avrebbero ridotto di parecchio il numero dei posti disponibili. E questa era la notizia del giorno, tutte le altre tra poco nella prima edizione. I titoli di questa edizione, l'appalto pilotato, la ricerca del consenso, il presunto patto tra Safina e Cristian Valerio con le soffiate per la giudicazione del bando di gara e i favori dell'imprenditore alla città. In memoria di Ciaccio Montalto, cerimonia questa mattina a via Carola Valderice per ricordare il magistrato assassinato dalla mafia 41 anni fa. Ancora all'ASP, un laboratorio di tossicologia. Stamattina è stata inaugurata la Cittadella della Salute, una struttura che garantirà un elevato standard di qualità tecnico-analitica. Ascolto è futuro. Il vescovo della diocesi di Trapani, ieri pomeriggio, ha incontrato i giornalisti in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, che è patrono appunto dei giornalisti. Per lo sport arriva la prima della classe alle 18 al Palacardella di Erice, la Handball Erice ovviamente, ospiterà Cassano Magnago. Infine, ritorniamo con l'approfondimento sull'inchiesta di ieri con un focus in particolare sulla Trapani Servizi, che abbiamo intitolato Trapani Servizi in chiaroscuro. Ma apriamo questa edizione proprio riprendendo un poco i ragionamenti sull'inchiesta che gli ha portato agli arresti domiciliari del deputato regionale del PD Dario Safina. Secondo quanto si evince dalla documentazione, dalle indagini, un appalto pilotato per la manutenzione dell'illuminazione pubblica a Trapani avrebbe favorito il consenso, la ricerca del consenso tra gli elettori per il deputato regionale. Questo sarebbe il presunto patto tra Safina e l'imprenditore Cristian Valerio. I particolari sono tracciati, sono estrapolati appunto dall'inchiesta in sé, vediamole intanto e poi ragioniamo. Le soffiate all'amico imprenditore per fargli aggiudicare i lavori per la manutenzione dell'illuminazione pubblica e battere la concorrenza. La promessa poi di coinvolgerlo anche negli interventi per il rifacimento dell'illuminazione del Campo Aula e del Campo Coni. Per accrescere il proprio consenso elettorale, il deputato regionale Dario Safina avrebbe stretto un patto con l'imprenditore messinese Cristian Valerio, rappresentante per la Sicilia della City Greenlight. Coinvolto nell'inchiesta culminata nell'arresto del parlamentare, per lui è scattato il divieto di esercitare per un anno l'attività imprenditoriale. I reati che gli vengono contestati, corruzione e turbativa d'asta, Safina li avrebbe commessi quando ricopriva la carica di assessore ai lavori pubblici della giunta Tranchida. Safina e Valerio si sentivano spesso telefonicamente «Io per te sono disponibile anche la notte», affermava l'imprenditore. Le dritte ricevute dall'amico assessore che gli avrebbero spianato la strada per l'aggiudicazione dell'appalto della durata di 15 anni, Valerio le avrebbe ricambiate 50.000 euro per iniziative del Comune, 10.000 euro per le luminarie cittadine per il Natale del 2020, quattro telecamere da installare accanto a due fontane per la videosorveglianza, due dispositivi di illuminazione di un'opera d'arte installata in Piazza Catito. E a fronte delle ripetute richieste dell'esponente del PD, l'imprenditore replicava «A condizione che esce il bando entro il 30 marzo, come mi hai promesso, ad una specifica richiesta da parte di una donna, se fosse possibile illuminare un'opera restaurata grazie ai fondi del Lions Club all'interno della Chiesa Santa Maria del Gesù», Safina rispondeva «Fagli due foto che gli scrocco questa cosa a City Green Light e che stasettimana già ho scroccato Piazza Catito. Vediamo, non posso scroccare un intervento alla settimana». Secondo i magistrati, Safina avrebbe utilizzato la società come uno strumento di immediata operatività ogni qualvolta gli occorreva il compimento di un'opera che gli assicurasse un tornaconto in termini di visibilità personale, condizione necessaria per coltivare le proprie ambizioni politiche. La legge va applicata certamente, siamo ovviamente tutti in attesa di vedere i risvolti giudiziari in merito a questa inchiesta. Sottolineare il fatto che da quello che si evince questi favori sono stati utili per la città di Trapani, non per un tornaconto personale, al di là di eventuali consensi elettorali per l'incriminato Dario Safina. Favori alla città di Trapani richiesti e va bene, però la legge va applicata. Vediamo poi cosa emergerà nei giorni a venire. Intanto a proposito di leggi, in questo caso di magistrati uccisi dalla mafia stamattina Valderice in via Carollo, una cerimonia per ricordare il magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto assassinato per mano mafiosa il 25 gennaio di 41 anni fa. 41 anni fa l'omicidio del magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Erano le 30 del 25 gennaio del 1983 quando in via Carollo un comando di killer armati di mitraglietta entrò in azione. Nessuno si accorse di niente, nessuno degli spari. Silenzio. Oltre 5 ore di silenzio. Il corpo di Ciaccio Montalto venne trovato all'interno della sua auto solo alle 6.45 del mattino. Era la Trapani degli anni Ottanta, la città degli sportelli bancari della loggia scontrino dove la mafia non esisteva, la provincia dove la droga scorreva a fiumi e gli appalti venivano spartiti agli amici degli amici. Ciaccio Montalto fu il primo a parlare di Cosa Nostra, ad indagare sulle famiglie che controllavano il territorio e i traffici dei corneonesi. Un precursore del metodo Falcone, segui soldi, trovi la mafia. Oggi in tanti si sono ritrovati di fronte all'abitazione del magistrato assassinato dove si è svolta una breve cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale. Un momento di commozione particolare è quello di oggi in cui ricordiamo la figura del nostro giudice Ciaccio Montalto. Sì, sono passati 41 anni da quella fatidica notte in cui il giudice venne ucciso proprio qui, in questo luogo, davanti alla sua casa, in via Antonino Carollo. Tante cose sono cambiate da quel 25 gennaio del 1983, altre cose probabilmente non sono cambiate. Siamo qua per continuare a promuovere la cultura della legalità, la legalità quella vera, quella fatta di atti e fatti concreti. È un appello che faccio ai giovani del nostro territorio, alle nuove generazioni che rappresentano non soltanto il futuro ma il presente di questa comunità. A loro affidiamo la cultura della legalità, la promozione della cultura della legalità che credo che sia sempre la strada maestra per poter affrontare tutte quelle questioni scure e tenebrose che il nostro territorio purtroppo ha sofferto in tutti questi anni. Presenti i rappresentanti dell'Associazione ALA, Avvocati e Società Civile, promotrice dell'iniziativa Un giusto tra gli ingiusti, dedicata alla memoria del magistrato. Questa campagna che parte oggi da parte della nostra associazione di ALA, vuole ridare giustizia a un giudice e abbiamo deciso di dare più mesi, quindi di fare una campagna che si articolasse in più mesi, proprio per recuperare quel tempo perduto che l'Italia, la Sicilia, anche questo paese non è riuscito giustamente a dare al giudice negli anni in cui non è stato commemorato. A Trapani una pensilina per i passeggeri in transito da e per Pantelleria è stata collocata stamattina al Molo Ronciglio. A sottolineare i disagi erano stati tantissime volte i passeggeri in transito che, in attesa dell'imbarco sulla nave per Pantelleria, erano costretti a subire le intemperie meteorologiche senza alcun riparo. Stamattina finalmente il Comune di Trapani ha concesso all'autorità portuale di sistema della Sicilia occidentale una pensilina per il riparo dei passeggeri in transito da e per Pantelleria. La struttura è stata sistemata presso la banchina del Molo Ronciglio, sotto la supervisione dell'assessore Giuseppe Laporta. A farsi portavoce dei disagi degli utenti, chiedendo appunto la collocazione di una pensilina al Molo Ronciglio, era stato il circolo del Partito Democratico di Pantelleria, al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Dopo l'importante attivazione lo scorso primo dicembre da parte dell'azienda Trasporti e Mobilità di Trapani del nuovo percorso della linea 2, messa a disposizione dei passeggeri in imbarco e sbarco dal Molo Ronciglio di Trapani, aveva spiegato Giuseppe Lafrancesca, vice segretario provinciale del Partito Democratico, ora occorre risolvere questa criticità. Detto, fatto. Tavoli tematici su bullismo e dipendenza. L'Istituto Pagoto di Erice, stamattina è stata presentata una nuova azione del progetto RestArt che coinvolgerà gli studenti. Incontri con gli esperti per sensibilizzare gli studenti su tematiche sociali che li convolgono spesso da vicino. La cooperativa sociale Badia Grande, in collaborazione con l'Associazione Professione Assistente Sociale, ha presentato questa mattina nell'auditorium dell'Istituto Comprensivo Pagoto una nuova azione del progetto RestArt. I tavoli tematici prenderanno il via a febbraio. Sono tematiche che possono sembrare banali o ripetuti, però in realtà sono tematiche che vanno viste, vanno lette con una chiave di lettura differente. E sono bullismo, cyberbullismo, l'utilizzo improprio dei social network, la violenza di genere, la dipendenza e così via. Sono tematiche che interessano oggi i giovani. Gli incontri con gli studenti saranno tenuti da un'equip multidisciplinare composta dalla psicologa Giuseppina Mucaria, dall'assistente sociale Maria Elenia Roberta Bonanno e dall'educatore Giuseppe Cannata. Sarà un'equip formata da un psicologo, un'assistente sociale e un educatore che saranno all'interno delle classi ad affrontare queste tematiche. È chiaro che dopo che verranno sviluppate, laddove dovrebbero emergere quelli che sono delle problematiche, delle conseguenze, magari dovuti all'apertura di certi temi, sarà anche previsto lo sportello d'ascolto che seguirà questi ragazzi laddove ne avessero bisogno. Frutto di una sinergia tra pubblico e privato, il progetto Restarto, finanziato dall'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del PNRR, è rivolto ai minori del comune di Erice tra gli 11 e 17 anni a rischio deveanza. Un'opportunità essenziale per i nostri alunni, anzi direi indispensabile, perché hanno l'opportunità di fare una serie di attività laboratoriali, di avere anche lo sportello d'ascolto all'interno della scuola, cosa che da due anni non era più attivo, perché il Ministero, dopo la pandemia, ha chiuso questa iniziativa. Quindi avere lo sportello di ascolto con tutte le problematiche che ci sono dovute anche alla pandemia, chiaramente, per i nostri ragazzi è indispensabile. Tutte le altre notizie nel prossimo blocco informativo. Spazio adesso a questo laboratorio di tossicologia all'ASP di Trapani, poi andiamo a vedere l'incontro di ieri pomeriggio con il vescovo Monsignor Fragnelli, vescovo della diocesi di Trapani, incontro con i giornalisti, e poi lo sport con il tanto atteso incontro di oggi pomeriggio, arriva la prima della classe, appunto Cassano Magnago, contro le arpie della Handball Erich. Stamattina però è stato inaugurato questo laboratorio, nuovo laboratorio di farmacotossicologia aziendale, presso la Cittadella della Salute. Per noi c'era Chiara Conticello. Un nuovo laboratorio di farmacotossicologia aziendale è stato inaugurato questa mattina presso la Cittadella della Salute. All'evento hanno partecipato la responsabile del laboratorio di sanità pubblica, Anna Maria Messana, e il direttore generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della regione siciliana Salvatore Requirez. La giornata di oggi consegna alla pubblica autenza servita dall'Aspio di Trapani un laboratorio all'avanguardia che sposa intercettandolo i bisogni di maggiore attenzione che sono orientati alla gestione della cosiddetta medicina di precisione. Verranno effettuate le analisi cosiddette di confermo di secondo livello per la ricerca di sostanze d'abuso su matrici biologiche, quale sangue ed urina. Queste sono assolutamente essenziali per dare una valenza medico-legale e o tossicologico-forense alle analisi. Recentemente si è avuta la visita annuale ispettiva da parte degli ispettori a Credia che oltre ad avere confermato l'accreditamento delle matrici e abbiamo anche portato in estensione ulteriori analiti quali metalli pesanti nelle acque. Quindi anche questo è un tassello che si va ad aggiungere alle analisi tossicologiche che si effettua nel laboratorio. Il laboratorio di farmaco-tossicologia aziendale inoltre vedrà una sinergia speciale con le forze dell'ordine. Noi facciamo i controlli di secondo livello a tutti coloro i quali risultano non negativi i test alcolemici o per uso di sostanze stupefacenti. Questo ci dà la possibilità di supportare le forze dell'ordine in tutta quella che è l'attività di verifica e di controllo che fanno all'interno del territorio o anche la caratterizzazione delle sostanze stupefacenti. È un altro degli elementi che adesso il laboratorio ci permetterà di fare. Quindi capite l'importanza che ha per la cittadinanza ma soprattutto per dare la possibilità alle forze dell'ordine di contrastare il crimine organizzato o gli abusi. In occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il Vescovo ieri di Trapani ha incontrato gli operatori dell'informazione per parlare di ascolto e anche di futuro. Ascolto è futuro. È stato questo il tema dell'incontro dei giornalisti organizzato dalla Diocesi di Trapani. L'evento si è svolto ieri in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti perché fu il primo a introdurre l'uso di fogli stampati da distribuire nelle case per le comunicazioni di catechesi. È da tanti anni ormai che il 24 di gennaio noi celebriamo la festa liturgica di San Francesco di Sales che è dichiarato patrono dei giornalisti da 100 anni ormai. Quindi vogliamo, grazie a lui, tenere presente l'impegno umano, personale e professionale di tutti i giornalisti del nostro territorio. L'incontro moderato dal Vescovo Fragnelli si è svolto al terzo piano del Palazzo Vescovile che da settimane è stato affidato ai giovani di Biaiv. Tanti gli argomenti affrontati dall'informazione di qualità all'ascolto, dalla pace al prendersi cura della cosa comuna. Ma fondamentalmente Papa Francesco ama dire che tutta l'evoluzione tecnologica del nostro tempo non deve mortificare, non deve far morire il giornalismo di strada, intendi dire la possibilità che l'operatore della comunicazione sia realmente dentro i processi direi quotidiani della gente, del popolo. E questo contribuisce sia da un lato a fare professionisti dell'ascolto, questo è il giornalista, dall'altro lato anche apertura di orizzonte, sentieri di futuro per la nostra gente. Un grande successo lo spettacolo ti racconto una storia così si intitola di e con Edoardo Leo è andato in scena ieri al Cineteatro Harrison di Trapani un teatro sold out tutto esaurito per uno degli ospiti più attesi della stagione teaterale firmata da Alessandro Costa. Varicco dice non sei fregato veramente finché hai una buona storia da raccontare e qualcuno a cui raccontarla questa sera è successo questo nel senso che con questo grande contenitore di storie che porto in realtà poi implicitamente racconto la storia d'Italia racconto la storia della mia generazione racconto tante cose che hanno un filo conduttore che però è la mia passione di essere frenata per quelli che le storie le sanno raccontare il primo eroe della narrazione è stato mio nonno ma lo è stato per molti magari anche per te nel senso in ogni alcuni avevano una tale quantità di storie epiche da raccontare perché avevano fatto la guerra perché avevano vissuto un certo tipo di povertà che aveva davvero qualcosa di eroico quelli che lo sapevano raccontare avevano una platea un pubblico un immediato che erano i nipoti perché è così perché vive dell'improvvisazione un pubblico vive di successioni vive di storie ho raccontato alcune cose miei personali anche legate a questa città a questa terra e quando avendo fatto quest'anno 30 anni di carriera ogni luogo mi racconta e mi ricorda un pezzetto della mia vita è tutto il teatro è singeno per me è veramente tutto io penso a parte sia un dovere civile farlo per andare in provincia a farlo per me è un'esigenza vitale non riesco a stare senza fare teatro ma principalmente perché nell'illusione di portare qualcosa al pubblico in realtà assorbo tantissimo prendo tantissimo per poter poi raccontare nuove storie il teatro è fatto di storie quando una persona ti racconta con un po' le fatiche che ha mortato in teatro il teatro il teatro è resistenza veramente resistenza civile quindi riscono i suoi occhi spero sinceri con una reale voglia di portare avanti uno spazio e metterlo a disposizione della città c'è avere un luogo dove le persone si incontrano dove le persone ridono piangono litigano discutono è uno spazio di aggregazione questo è il senso più alto per me di fare la cultura avere a disposizione degli spazi per la programmazione sul telesub invece questa sera alle 20.25 manderemo in onda una nuova puntata di A Casa Mia il programma di cucina condotto da Vittoria Benante e dal maestro Peppe Giuffre ospiti in questa puntata dalla dirigente dell'istituto Ignazio e Vincenzo Florio Pina Mandina e anche l'avvocato Vincenzo Scontrino alle 21 e poi in replica alle 23 invece una nuova puntata di The Politikum sarà incentrata sulla nuova scuola con alcuni dei dirigenti scolastici di istituti in provincia di Trapani che spiegheranno un po' come cambia appunto non solo il loro istituto con nuovi indirizzi ma soprattutto come sta cambiando un po' la scuola in generale vi aspetto alle 21 in diretta poi in replica alle 23 tutte le notizie le seguite sul nostro sito ufficiale e tra poco lo sport prosegue la preparazione in Casa Trapani per il prossimo impegno di domenica al provinciale infatti arriverà l'Acragas la società Granata intanto ha reso noto che il turno di Coppa Italia in programma mercoledì 7 febbraio si giocherà contro la Fidelis Andria al Degli Ulivi alle 17.30 e non più alle 14.30 secondo quanto comunicato precedentemente nel prossimo weekend invece in Valle d'Aosta il trabanese Fausto Ferreri tenterà il record d'apnea lineare estrema sotto i ghiacci vediamo Fausto Ferreri proverà a stabilire il primo record d'apnea lineare estrema sotto i ghiacci realizzato da un atleta diversamente abile percorrendo 40 metri da una cavità a un'altra realizzate sulla lastra di ghiaccia del lago il tentativo dell'impresa rientra nell'ambito dell'immersione sotto i ghiacci del lago Lod a Chamois in Valle d'Aosta a 2019 metri sopra il livello del mare Ferreri 53 anni originario di Campobello di Mazzara è uno sportivo diversamente abile istruttore di apnea adulti e bambini da oltre 15 anni brevetto raggiunto con la didattica Apnea Academy fondata dal pluricampione Umberto Pellizzari istruttore di nuoto di primo livello Fin Ferreri è stato un giocatore di palla a mano fino al 1992 quando a causa di un incidente stradale con la sua moto subì l'amputazione della gamba sinistra ha iniziato a praticare il nuoto a livello agonistico ottenendo ottimi risultati è stato campione di nuoto per disabili nel 99 conquistando loro a stesso San Giovanni per due anni consecutivi è arrivato secondo alla traversata dello stretto di Messina i suoi allenamenti le uscite in mare sono effettuate con il suo gommone spesso accompagnato da suo figlio Alberto una delle mete preferite per le uscite ricreative in acque profonde è il tratto di mare antistante l'antica tonnara di torretta granitola ad accompagnare nelle vesti di coach safety e madrina di queste imprese ci sarà Mattia Malara torinese anche lei da oltre 20 anni struttrice di apnea adulti e bambini con la didattica apnea academy seconda safety insieme a Mattia ci sarà Elena Piano anche lei struttrice di apnea adulti e bambini didattica apnea academy e componente dell'apnea ASD da oltre 10 anni la handball erice questo pomeriggio alle 18 sarà impegnata al palacardella nel recupero della prima giornata di ritorno arriva la prima della classe cioè Cassano Magnago voltare pagina dopo l'eliminazione dalla European Cup per mano della più esperta Granoliers la handball erice torna a giocare in campionato dopo più di un mese dal largo successo casalingo contro Lions Sassari in mezzo la storica conquista della supercoppa italiana e il doppio confronto in ambito europeo è tempo di tornare a pensare al campionato però oggi alla palacardella alle 18 arriverà la prima in classifica Cassano Magnago che un girone fa si era imposta 29 a 26 un impegno difficile ma non impossibile e che in casa da erice apre apre un ciclo di match ravvicinati che culminerà con la partecipazione alla Coppa Italia Martina Iacovello ai nostri microfoni ha fatto il punto sì oggi non sarà una partita semplice perché comunque è prima in classifica e non lo è per caso è una bella squadra per noi non è mai semplice giocare contro Cassano c'è sempre un precedente che è importante quindi sarà una partita importante noi dobbiamo portare i due punti a casa assolutamente e poi sabato ci sarà un'altra partita importante contro Teramo e poi ancora per andare sempre più nello specifico ci sarà la Coppa Italia però è meglio pensare sempre step by step sì certo dobbiamo pensare prima alla partita di oggi vincere pensare a sabato vincere ancora e poi possiamo andare tranquillamente in Coppa Italia ed eccoci arrivati all'approfondimento ritorniamo sulla vicenda giudiziana di queste ultime ore in particolare con questo servizio preparato dalla redazione ci soffermiamo sui particolari appunto scusate la ripetizione legati alla vicenda della Trapani Servizi vediamo l'ingegnere Carlo Guarnotta doveva diventare a tutti i costi direttore generale della Trapani Servizi il suo ruolo di amministratore unico della società infatti era scaduto lo volevano come dirigente tecnico al comune ma lui preferiva la Trapani Servizi mi vogliono fortemente là io sinceramente tra là e qua preferisco qua e così è stato c'era l'accordo tra dirigenti sostengono gli inquirenti e c'era anche la benedizione di Dario Safina deputato regionale che all'epoca dei fatti ricopriva l'incarico di assessore comunale ai lavori pubblici e quanto emerge dalle carte dell'inchiesta dei carabinieri culminata questa mattina nell'arresto del parlamentare del PD e nell'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici della società che si occupa della raccolta dei rifiuti uno è proprio Carlo Guarnotta l'altro invece è Giuseppe Ullo direttore amministrativo della Trapani Servizi il primo bando fatto per favorire Carlo Guarnotta era però troppo palese andava pertanto cambiato per non destare sospetti ed infatti l'avviso per la selezione di un direttore generale pubblicato il 24 dicembre del 2020 nel sito del comune di Trapani e in quello della Trapani Servizi quattro giorni dopo veniva revocato a spiegare il motivo di questa decisione a Carlo Guarnotta l'avvocato Girolamo Spezia che nel frattempo era stato nominato nuovo presidente del CDA della Trapani Servizi ignorando delle cimici collocate nell'ufficio di Guarnotta l'avvocato dice per stare tranquilli tutti già il sindaco Giacomo Tranchida aveva manifestato le proprie perplessità il bando infatti sembrava ritagliato sulla figura professionale di Guarnotta facendo fuori di fatto gli altri candidati e lo stesso Girolamo Spezia emerge da una intercettazione a rivelarlo alla componente del CDA Marilena Ciotta alla donna il presidente confidava di aver raccolto le preoccupazioni di Giacomo Tranchida domenica mi ha chiamato il sindaco perché ha letto il bando del direttore generale dice attenzione non vorrei sia mi sembra stampato gli ho detto io noi abbiamo trovato questa procedura iniziata ed in effetti rivedendo il bando i due interlocutori rilevavano alcuni aspetti che avrebbero favorito Guarnotta facendo il calcolo di Carlo lui è già dentro con 38 punti senza mettere altro il bando andava quindi annullato nella redazione come dicono Spezia e Ciotta erano intervenuti più soggetti e citano in particolare l'ingegnere Rosario Bellofiore è Dario Safina all'epoca dei fatti assessore comunale ai lavori pubblici dice Spezia ci hanno messo mani tutti questo bello fiore lui l'altro poi lo ha visto Dario che ha fatto delle variazioni si lamentavano poi del controllo analogo che avrebbe omesso ogni iniziativa di fronte a un bando di gara redatto per favorire Guarnotta assai significative le affermazioni di Ciotta ci dobbiamo fidare di meno di questo controllo analogo ci hanno dato un pacchetto preconfezionato poi Ciotta fa un'ammissione noi lo avevamo notato veramente il 28 dicembre del 2020 il consiglio di amministrazione annullava il bando di gara che era truccato si evince soprattutto da un elemento tra i requisiti di ammissione infatti era prevista la comprovata esperienza lavorativa almeno triennale con qualifica di direttore generale o amministratore in società a totale partecipazione pubblica tra paniservizi e società a partecipazione interamente pubblica con socio unico il comune di Trapani Guarnotta ne è stato consigliere di amministrazione poi amministratore delegato ed infine amministratore unico con mandato fino al novembre del 2020 viene poi pubblicato un secondo bando con l'obiettivo però di favorire sempre Guarnotta l'unica modifica portata infatti è stata l'estensione della possibilità di partecipazione a soggetti con esperienze dirigenziali anche nel settore privato il cui eventuale intervento venne però neutralizzato dalla previsione di un punteggio ingiustificatamente di molto inferiore 5 punti anziché 8 per ogni anno il che di fatto avrebbe vanificato la possibilità di vittoria dei candidati provenienti dal privato e a vincere il concorso è stato proprio Carlo Guarnotta grazie a tutti